Ciao a tutti e benvenuti in Tessilan News. Quest'oggi il protagonista indiscusso è il Freddy, un cordino prodotto in esclusiva per Tessilan dall'aspetto davvero molto particolare. Le sue fibre lanose infatti conferiranno alle vostre creazioni quell'effetto ottico caldo e avvolgente. Analizziamolo nel dettaglio. Analizziamo quindi il Freddy, un 100% made in Italy, dove potete notare proprio questo aspetto lanato che dà quell'effetto ottico tipicamente invernale. Il cordino si presenta quindi con un diametro di circa 3 mm per cui è consigliato l'utilizzo di ferri 9,10 e di uncinetto 7,8. Si presenta in rocca da 200 g per una lunghezza di circa 110 metri. In questo caso quindi notiamo il colore particolare che è il petrolio melange, seguito poi dal beige, stracciatella, dove potete notare appunto l'alternarsi del bianco e del nero, e grigio melange, dove alla base scura del grigio si alterna un bel grigio chiaro. Analizziamo adesso i quattro colori in tinta unita, quali Tiffany, Cenere, Prato e Cipria. Analizziamo adesso un bel abete, seguito poi dal muschio melange, dove potete notare appunto queste striature particolari, color cielo e infine nero petrolio. Proseguiamo con un bel bordeaux, seguito dal petrolio militare e blu. Ecco adesso un bel perla, panna, rosso e nero. Per le vostre creazioni tipicamente invernali possiamo quindi confermare che il freddo è il quindi adatto anche per queste creazioni. O ancora, è ricercatissimo per la realizzazione di cuscini, puff, tappeti, complementi d'arredo. Insomma le idee sono davvero tante e come sempre non manca il suggerimento della bravissima fata tuttofare. Lei infatti suggerisce la realizzazione di una bellissima borsa molto particolare, che è la Crochet Bag Stella Alpina, dove potrete notare come sarà durevole nel tempo sia nella forma che nell'aspetto, dato proprio la corposità del cordino. Io come sempre vi ringrazio per averci seguito, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale YouTube, di attivare la campanella per rimanere aggiornati su tutte le nostre novità Tessiland e vi mando un bacio. Ciao! Ciao!